Tre esponenti di Forza Nuova sono stati aggrediti a Padova da cinque giovani non ancora identificati in via Fra Paolo Sarpi. Nel tardo pomeriggio di sabato, i militanti di estrema destra stavano lasciando il presidio di protesta in via Cesarotti contro il Padova Pride, nel quale hanno manifestato per i diritti civili quasi 10.000 persone. Quando sono stati avvicinati dagli sconosciuti e picchiati, nessuno dei tre si è fatto medicare in ospedale. L'aggressione è avvenuta verso la fine della manifestazione del Gay Pride, che si è svolta senza tensioni e incidenti. sull'aggressione sta indagando la Digos. Condanniamo l'aggressione subita dai tre ragazzi di estrema destra in via Sarpi, spiega Mattia Galdiolo, organizzatore del Padova Pride. Sabato siamo scesi in piazza per far sì che tutti e tutte possano vivere senza sentirsi minacciati dal prossimo per quello che sono e quello in cui credono. Si è trattato dunque di un episodio isolato al termine di una manifestazione colorata e pacifica con migliaia di persone in strada senza tensioni o incidenti. Siamo a disposizione delle forze dell'ordine perché venga fatta chiarezza, conclude Galdiolo. Grazie. Grazie.